Secondo l'ultimo rapporto dell'organizzazione Transport & Environment, l'Europa e l'Italia in particolare sarebbero nettamente indietro a livello di finanziamenti per quanto riguarda il settore elettrico dell'automotive. Questa situazione sarebbe da attribuire alle incertezze legate alle decisioni cruciali sulla riduzione delle emissioni dei trasporti, su cui l'Unione non dà garanzie. Più di un terzo degli investimenti, il 36%, finisce in Nord e Centro America, nonostante i volumi di produzione siano inferiori. Dopo il record delle temperature registrate nel 2023, che ha reso quest'ultimo l'anno più caldo di sempre, il Servizio Meteorologico Britannico e il progetto Copernicus dell'Unione Europea concordano su un fatto. Esiste l'86% di probabilità che uno dei prossimi quattro anni sarà di nuovo l'anno più caldo mai registrato. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha affermato che stiamo giocando alla roulette russa con il pianeta. Le elezioni per il nuovo Parlamento europeo, che si sono tenuti gli scorsi sabato 8 e domenica 9 giugno, hanno stabilito la netta prevalenza dei partiti conservatori sui verdi e liberali. Uno scenario politico che potrebbe mettere in discussione il lavoro fin qui portato avanti dalla commissione guidata da Ursula von der Leyen su Green Deal e politiche ambientali, giudicati dai partiti di centrodestra come fratelli d'Italia delle vere e proprie ecofollie. Politiche come la PAC, politica agricola comune e la Natural Restoration Law, oltre alle misure di riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030, saranno quasi certamente rivalutate e ridimensionate nella portata. Tuttavia c'è chi, come Enrico Giovannini, direttore dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, si dice possibilista. Giovannini fa infatti notare come tornare alle politiche pre-Green Deal sia sostanzialmente impossibile, poiché la questione energetica andrà di pari passo con i mutati scenari geopolitici che vedono gas e petrolio ai margini degli approvvigionamenti. Non ci sarebbe insomma una nuova maggioranza pronta a disfare la tela già tessuta. Un investimento di quasi un milione di euro solo nel primo anno per svolgere un'attività che potrà estendersi nel tempo e che vuole il miglioramento delle raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio. E' partito così il nuovo piano straordinario progettato dal Consorzio Nazionale Imballaggi finalizzato ad intervenire in modo strutturale sulla raccolta differenziata nelle sette città principali del centro-sud, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania e Reggio Calabria. Intervenire su queste città quindi può significare un miglioramento dei tassi di intercettazione dei rifiuti di imballaggio e del loro riciclo a livello nazionale. E' l'Europa a chiedercelo attraverso gli obiettivi sempre più sfidanti, ha spiegato il presidente di Cona Ignazzo Capuano. I comuni coinvolti si trovano in cinque regioni in cui ancora oggi la raccolta differenziata ha ampi margini di miglioramento e si assessa su percentuali comprese fra il 51 e il 58%, commenta Fabio Costarella, vice direttore di Conai. Numeri che devono crescere e avvicinarsi a quelli di molte regioni del centro e del nord.